L'inverno riprende il suo posto, lo fa in grande stile soprattutto nelle prossime ore. Risveglio gelido in Abruzzo dove la rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica Caput Frigori si ha registrato le temperature minime di meno 14.8 in località Piani di Pezza, meno 12.1 a Campo Felice, meno 11.9 a Rifugio Franchetti, meno 11.4 sull'alto piano delle 5 miglia, meno 11.2 a Passo Godi, meno 10.7 a Rocca di Mezzo, meno 10.1 a Ovindoli. Ma non solo in alta quota, il tempo in Abruzzo e il rapido peggioramento. Sono attese forti precipitazioni soprattutto sul settore orientale nelle prossime ore. La neve sta cadendo da questa mattina sulla Marsica già da ieri sera nell'Aquilano. Secondo il tecnico meteorologo Giovanni De Palma, la giornata campale sarà quella di domani sabato. I fiocchi scenderanno a bassa quota, possibile risveglio bianco per la città di Chieti, oltre Teramo, L'Aquila, Sulmona, nevica già in Marsica e nell'Aquilano, come detto, e diversi comuni si preparano al grande freddo, al ghiaccio e a un tempo con i fiocchi. A Chieti, mezzi spargi sale sono pronti ad attivarsi già da stanotte per evitare il rischio ghiaccio. Altri se ne aggiungeranno in caso di neve, chiariscono dal comune. Un brusco peggioramento con forti piogge avverrà sul settore orientale, tanto che a Pescara le abbondanti precipitazioni si uniranno a neve e potranno scendere fiocchi a bassa quota, non solo nel capoluogo adereatico, ma anche nelle zone limitrofe. Precipitazioni sono attese lungo tutta la costa abruzzese. I vari sindaci raccomandano prudenza, tanto che l'assessore comunale Eugenio Seccia ha anticipato che sono state allertate le associazioni di protezione civile per far fronte ai possibili allagamenti in città sulla chiusura delle scuole nei centri più colpiti dal maltempo, e ben informarsi perché la situazione meteo potrebbe cambiare nelle prossime ore. Raccomandata dunque la massima prudenza soprattutto per gli automobilisti lì dove nevica o ci siano gelate e la necessità di dispositivi di sicurezza. Dal pomeriggio di oggi e per le prossime 24 ore sono previste sulle autostrade a 24 e a 25 condizioni meteo avverse, in particolare precipitazioni nevose nelle tratte comprese tra Carsoli e Teramo e tra Torano e Torre dei Passeri, in corrispondenza dell'innesto a 14. ANAS sconsiglia agli utenti di mettersi in viaggio sulle due tratte autostradali, salvo per motivi d'urgenza e solo dopo essersi informati sulle effettive situazioni meteorologiche in corso.